questo è sbagliato Manoel, perché hai voluto caricare con le braccia? le mani, le mani, le mani, ricordatevi che la tecnica, Marco spero che me lo confermi, la tecnica, un'ottima tecnica sopperisce ai difetti, se voi avete le mani buone, la posizione buona, voi sopperite a tanti piccoli difetti che ognuno di noi ha, ricordatevi, e non c'è tecnica se non c'è un'ottima coordinazione, se io sono scoordinato posso arrivare anche le mani col miele, ho le calamite e la pala la va dentro, ok? Vieni, voi state tirando questo, vieni, vai, su, buono, occhio, non essere rigido, vai, su, bravo, eccola lì Manoel, bravo, non devo caricare su questo tipo di pala, devo andare alla ricerca immediata, perché mi sta entrando in porta, vai, su, scusami, ho sbagliato io, scusami, vai, su, bravo, occhio, e la, valla a prendere la, vai, fai sempre l'intento a portarla sul viso, non rimanere mani con la gamba la, eh, faccio il palcio, me la porto, me la trascino, non rimanere, eh, se no accorcio il movimento, vieni, via, su, buono, vai, Dura delle mani, sì Se faccio il palcio, faccio il palcio, se no scusami, prendo la pedal, ok? Quindi, postura, faccio, un'altra mano, e vado a prenderli, ok? Cerco di effettuare la caduta, si è messo bene con le mani, con la gamba, tutto quello che si èテgico Qui, 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 qui andiamo all'interno di troppo Grazie mille. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.